Il 19 di novembre si avvicina, il Movimento dei Focolari sta organizzando una bella cosa per i giovani. Di che cosa si tratta? Si tratta dello spettacolo dei Genverde che si terrà al Teatro Civico di La Spezia alle ore 21. Ma è uno spettacolo ovviamente gioioso, molto bello, ma che lo preparate anche con un momento di lavoro fatto proprio con i giovani nei giorni precedenti. Esatto, è proprio insieme ai ragazzi per una fascia di età dai 14 ai 25 anni. Anzi, se volete iscrivervi ci sono ancora gli ultimi posti, quindi vi prego di affrettarvi fino a lunedì, martedì al massimo. Potete andare a cercare sulla nostra pagina Facebook, Star Now La Spezia, con tutte le indicazioni e le informazioni. Tra i giorni di lavoro, di gioco, di approfondimento, che cosa si farà in queste questioni e più nello specifico? Sarà un grande workshop dove i ragazzi potranno scegliere se fare danza, hip hop, percussioni, musica, canto, teatro e dove potranno mettersi in gioco e trovare dei loro talenti. Ovviamente non è solo un gioco, non è solo ballo, non è solo divertimento, ma ci sono anche dei momenti veramente di approfondimento e di alto significato. Qual è l'asse portante di queste giornate? L'asse portante è fondamentalmente la fraternità, è quello che apparteniamo tutti allo stesso mondo, indipendentemente dalla razza, dalla cultura, dalla religione, che siamo tutti fratelli di questa stessa terra. Insomma, Chiara Lubice è sempre presente? Sempre presente, sempre presente, fea di noi.